Macabro ritrovamento nelle acque del Gargano nella giornata di mercoledì a Vieste è stato segnalato e poi recuperato il cadavere di una donna. Sul posto agli uomini della Capitaneria di Porto il corpo è stato avvistato da alcuni turisti mentre erano a bordo di un'imbarcazione. Successivamente i militari sono riusciti a recuperare la salma nei pressi della Gattarella. Il cadavere di una turista di 60 anni, Rosaria, Paolo San Vido di Montesarchio in provincia di Benevento ma che da anni viveva in Svizzera. La donna è anegata mentre faceva il bagno in località Pizzomunno. Il corpo è stato trasportato per oltre due miglia dal luogo dell'avvistamento. La sessantenne che era in vacanza a Vieste con la sorella sarebbe stata colta da malore.